Gentili telespettatori, buona giornata. E quando si tocca il portafoglio, anche il giornale più a sinistra di tutti, la Repubblica, si arrabbia. Altrimenti ci arrabbiamo. E così arriva la denuncia di Repubblica verso il PD. I Dem, i Democratici di Roma, non pagano i giornali, leggono gli articoli gratis. Ebbè, quando si parla di soldi, non ti conosco. L'accusa è questa. Il PD legge senza pagare. Parlano di ladrocinio, tecnicamente un ladro. In particolare si tratta del PD di Roma. E la denuncia proviene dalla cronaca locale di Repubblica, che si affida alla breve requisitoria di Giuliano Foschini. Titolo. Se anche il PD deruba i lavoratori. Svolgimento. In sintesi cosa dice? Che sul proprio canale Telegram i Democratici Capitolini offrono ai loro iscritti l'intera rassegna stampa del Comune di Roma. Centinaia di pagine con dentro una lunga selezione di articoli provenienti da vari giornali, tutti naturalmente protetti da copyright. Si tratta di un reato, è anche piuttosto grave, osserva Repubblica, e cioè un furto appesantito dalla non trascurabile aggravante che a perpetrarlo con tale spudorata leggerezza è un partito asseritamente di sinistra. Ah beh, cosa vuol dire? Mamma mia, mamma mia, vabbè, Repubblica, insomma. Come dire, la sinistra non può fare queste cose, le fanno gli altri. Vergogna. Bene. In sintesi, c'è, leggono senza pagare, ma si vede anche comunque un calpestio volgare del lavoro, scrivono, della passione di migliaia di persone, giornalisti, poligrafi, tipografi e edicolanti che svolgono ciascuno nel migliore dei modi possibile, un mostiere che in qualche modo è anche un servizio pubblico, un sostegno alla democrazia. Beh, allora, piuttosto che scrivere l'articolo sulle cronache di Roma, e scusate, agite per via legale. Se il PD, o meglio, alcuni deputati del PD prendono gli articoli e, non lo so cosa fanno, il copia e incolla su Telegram, probabilmente magari Telegram, non lo so, però potete far valere i vostri diritti di copyright nelle sedi preposte. Se avete scoperto che copiano e incollano gli articoli, che poi se non sbaglio, se voi andate su Google e cercate la Repubblica e aprite il giornale, ogni articolo vi dice che se non sei iscritto e non paghi, non lo puoi leggere. Ad esempio, sul Corriere della Sera tu puoi leggere massimo, non lo so, 10 articoli al mese. All'undicesimo articolo c'è scritto abbonati. Ecco, ci sono giornali che fanno pagare un abbonamento, a chi vuole lo paga, a chi non vuole niente. E ci sono invece giornali che sono liberi, puoi leggere tutti gli articoli che vuoi, ma ogni volta che apri un articolo ti trovi 10-15 pubblicità, a destra, a sinistra, sopra, sotto, che ti si aprono in tutti i modi. Ecco, c'è un modo diverso di fare business. Ci sono i giornali che dicono se vuoi leggere i miei articoli li paghi, e ci sono giornali che dicono no, non pagare niente, io ti riempio di pubblicità. Ma voi credete che anche quelli che paghi non hanno la pubblicità? Sono scelte commerciali, non so quale delle due sia la migliore, se far pagare un abbonamento più le pubblicità o nessun abbonamento. Non ho idea, bisognerebbe, se hanno messo, se due giornali importanti come il Corriere e la Repubblica mettono un abbonamento per leggere i suoi articoli, significa che in qualche modo hanno un bel ritorno economico che fare come altri, non so come Libero, il Tempo, il Giornale o altri, che tu puoi leggere tutti gli articoli del giorno. Poi ci sono dei giornali che invece ti dicono principalmente il 90% degli articoli li puoi leggere, ma questi solo se compri il giornale, fisicamente lo puoi leggere. Sono scelte commerciali. Ma l'accusa, come torniamo a quello di prima, è che la catena del valore dell'informazione dall'ideatore al distributore cade vittima di un brigantaggio quotidiano contro il quale Repubblica evoca a giusto titolo l'intervento della Guardia di Finanza, e che i colpevoli siano proprio gli esponenti del principale partito italiano di sinistra, colti a pubblicare gratuitamente e integralmente quello che invece si dovrebbe comprare. rappresenta un desolato spunto in più per riflettere sui fondamentali di una denuncia sinceramente democratica e bla 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 bla. Eh, cari amici di La Repubblica, insomma, in questo caso non guardano in faccia nessuno, eh. Gli sordi sossordi. Agite, cavolo, cavolo, sono i politici del PD che copiano e incollano i nostri articoli su Telegram. Eh beh, insomma, rivolgetevi alle autorità competenti, chi se ne frega che siano di quello dell'altro partito, fate valere i vostri diritti di copyright. non si può copiare e incollare, ma anche se voi scrivete, anche se voi prendete un articolo e lo copiate, lo incollate da qualche parte, gli scrivete, ah, questo è di Repubblica del tal giornalista. Dice, eh beh, io l'ho scritto. No, 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 no. Dovete avere il permesso dell'autore, del giornale che vi dà il permesso per iscritto di copiare e incollare il loro articolo. Quindi scrivere che l'articolo è di Repubblica e anche il nome del giornalista, quello non è sufficiente a dire, ah, io ho scritto di chi è, quindi ho dato i giusti crediti. No, se è coperto da copyright e poi soprattutto loro lo vendono, loro lo vendono, quell'articolo con gli abbonamenti, non puoi tu copiarlo e incollarlo tutti i giorni su Telegram. Ma loro pensavano quelli del PD, eh, ma noi siamo quelli del PD, siamo quelli della stessa parte, noi possiamo farlo. Eh, no. No, cari amici, quando si parla di soldi la gente non guarda in faccia a nessuno, eh. Bene, Repubblica, vediamo se prendi le vie legali. Magari hanno fatto questo articolo per spaventare, beh, adesso vediamo da domani se ancora pubblicano gli articoli. Probabilmente smetteranno, eh. Probabilmente smetteranno. Uomo avvisato, mezzo salvato, eh. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.